Il cantiere chiuderà il 20 dicembre con oltre un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna code per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e il Bivio per la variante di Valico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!